Siamo a tutti ragazzi, sono And Me L'Uno Oggi vi sto preso a presentare un minigioco che mi è passato per la testa La regola di questo minigioco sarà che non possiamo crearci la casa ma ce la dobbiamo cercare Nel senso che la casa saranno le nostre grotte naturali Quindi in qualche modo ci dobbiamo sbrigare a trovarcela Ovviamente qua c'è una cassa bonus Dobbiamo sopravvivere per una notte, difficoltà difficile E il giorno seguente quando sarà mattino dovrò cercare di raggiungere questo posto dove ci sono dei fuochi d'artificio E dovrò attivarlo per segnare la fine Quindi iniziamo Ok dopo aver fatto un po' di legna cerchiamo una base e un po' di carne Facciamo una cosa, facciamo una crafting table E ci facciamo una spada Così ci troviamo un pochino più avanti Lì c'è una montagna, sicuramente ci sarà una grotta Mi prendo un po' di carne Prima mi prendo qua un paio di pietra Così faccio la fornace, la spada E anche i piccoli di pietra Lascia non è necessario Già quella di legna va bene Ok dai sbrighiamoci Facciamo qua una fornace Qua una spada di pietra Così è meglio di quella di legna E infine il piccone Ok perfetto Ci prendiamo qua il carbone Un pochino non troppo Ok ok Se siamo mai in pieno meggiorgiorno Dobbiamo trovarci per fatto una miniera Cercare di metterci tutte le cose Oh Non è che convenga Qua è pieno di aperture Vediamo se c'è del ferro C'è uno scheletro Oh no uno zombie che mi ha avvistato Faccio qua le docce Da lontano così non mi ammazza Ok qua i stichini Qua le torce E ce le abbiamo Vediamo Vediamo se c'è qualcosa qui Oltre lo zombie Sì Vieni qua Scomparso Sei rimasto bloccato Idiota Vieni qua Ok è ammazzato Cosa dà? No soltanto carne Di zombie con la marcia È brutta Mi ha posto qui? Sì dai Mi ha posto qui Vediamo qui Come si entra Sì buono Allora mettiamo qua un paio di torce Possiamo riconoscere dove è l'entrata Ok prendiamo un altro po' di carne Ecco Allora Qua mettiamo qua La fornace La crafting table Ok cerchiamo questa maldetta carne Allora Avevo visto delle mucche Per di là Vediamo Li raggiungiamo velocemente Dov'è? Si sta avvicinando la sera Giusto? Sì Molto Eccole qua Venite Più vicine Più vicino Dove sei? Vieni qua Ah Perfetto Ah Perfetto Adesso possiamo cucinare un bel po' di carne Un po' qua Un po' qua Un altro po' Facciamo qua Facciamo una specie di fossato Madonna L'ulto inferto Aspettate ragazzi Se sta già piovendo Non mi dire Che già i mostri sono qua Vero? Mi sono qua Devo cucinare qua la carne E cercare di sopravvivere A varie andate di mostri C'è una cosa Andiamo un pochino All'esplorazione Ok Mi ha dato fastidio Anche 5% Ecco Ok Qua ci sono un paio di zombie Qua vicino Pernazione I zombie No Non c'è bisogno Ah Questo è un ninja Quanti sono? Questa persino la spada Un attimo Un attimo Un attimo Aspettate Questo Non credo che Faccia bene Allora Un attimo Sta calmo Oh mi ha troppato La spada di ferro Ovviamente è un po' danneggiata Ma è più forte È un bel po' più forte C'è il cavallo scheletro Si è stato colpito Da un fulmine Qua sta fulmiando Tutto Che sta succedendo Sta solo lui Maledizione Maledizione Oh no 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 Ok Qua stanno arrivando Un bel po' Vedete che io mi devo Per forza Ok Metto qui Qua vicino Maledetti scheletri Ho un brutto ricordo con voi Ok Non è che stia andando bene Devo sopravvivere un bel po' Qua stanno arrivando Un bel po' di zombie Oddio Ce ne sono Aspettate Questa notte Non è che sia Un bel po' calma Dai per favore Per favore L'ultimo colpo Non è vero Ecco Questo era l'ultimo colpo Dai Resisti No 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 Dai Ecco qua Non sono pochi Sono un bel po' Povore Enderman Siamo amici Vero? Dai Dai che fra poco Diventa giorno Mi ha smesso anche di Fare Tuoni e fulmini No 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 Ho visto L'Enderman Negli occhi Quasi Non era mezzo Baggaticcio Ok è arrivato giorno Mi ha smesso anche di piovere Ok 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 Perfetto Ok L'unica cosa Devo fare attenzione Adesso sono i creeper Ero quella che ho detto No Non è vero Per favore No Ok Quando ho fatto apposta Prima di morire Doveva aver fatto colpirmi Ok Adesso devo soltanto correre In quella base E tirare 2000 Di fuochi d'artificio Meno male che avevo messo torce Così a me non ci vedevo Infine Non vedevo manco dove erano I scheletri Sono mimetizzati Entra la roccia Dai Segniamo la fine Abbiamo vinto Ma va bene ragazzi Qua finisce qua il video Spero che vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Vi prego E ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao Ciao